Pino! 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 Ci sono gli scorpioni! Grazie a Dio! Come grazie a Dio? Tengo lontano i topi! Ma perché ci sono pure i topi? E meno male, mangiano gli scarafaggi! Ma perché ci sono pure... Vabbè, basta. Ti cucino? Grazie. Che vuoi che ti cucino? Cosa c'è? Tutto. Due uova frite. Due uova frite, ne rigo! Buon appetito! Senti, io vado a letto. Ciao! 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 Ciao!